Amiche e amici tifosi pisani benvenuti o bentornati sul canale per questo nuovo video commento alla partita di ieri tra Cittadella e Pisa Un Cittadella-Pisa che era diventato fondamentale per la squadra nera azzurra Cittadella veniva da sette sconfitte consecutive Il Pisa veniva da un periodo di due sconfitte e un pareggio Servivano assolutamente tre punti che sono arrivati Come sono arrivati? Una partita bruttissima, un primo tempo totalmente inutile perché non è successo assolutamente niente Però quel poco che è successo è successo a favore del Pisa Nel senso che i razzurri hanno avuto due occasioni più o meno nitide Una con Arena con un tiro centrale parato facilmente dal portiere del Cittadella E un'occasione abbastanza importante con Mlacar che praticamente ha sbagliato un rigore in movimento Ciamattando questa palla sul fondo Il primo tempo finisce 0-0, non ha detto assolutamente niente Un secondo tempo dove il Cittadella è sembrato rientrare in campo con una grinta in più Però il Pisa è riuscito a difendersi bene, a coprirsi e a non subire praticamente niente È il Pisa che è andato più volte vicino al gol, soprattutto nel secondo tempo Un'azione di Bonfanti per linee centrali e poi è andato al tiro di sinistro, uscito di non molto Purtroppo su quella stessa azione dopo 12 minuti che era entrato del secondo tempo Bonfanti è dovuto uscire per l'ennesimo infortunio Poi su questo ci torneremo più tardi con il piccolo angolo polemica solito dei miei video Il Pisa è andato nuovamente vicinissimo al gol Con un cross dalla sinistra, un'uscita accelerata del portiere del Cittadella Va messo Piccinini di fronte alla porta vuota Ma un difensore della squadra veneta è riuscito a respingerla proprio sulla riga di porta Quindi si rimane sullo 0-0 Ma quando sembrava tutto finire in uno squallido pareggio di inizio marzo Ecco che una punizione sempre sulla sinistra Beruatto invece che scodellarla in area di rigore decide di giocarla a terra La dà Barberi che accentrandosi lascia partire come direbbe il maestro Aldo Orsini Una stilittata rasoterra che si infila nell'angolino basso dove il portiere del Cittadella non può arrivare Il Pisa la sblocca, Barberi va a festeggiare sotto lo spicchio dedicato ai tifosi nero-azzurri Mostrando la maglia di Andrea Barberis dopo il grave infortunio rimediato nella partita di mercoledì sera contro il Modena Purtroppo per lui un infortunio che sicuramente gli fa finire qui la stagione Ma chissà anche con tutti gli altri problemi se potrà proseguire poi nella sua carriera Che comunque è stata abbastanza importante in questi anni tra Serie A e Serie B Questa in sostanza la partita Il Pisa ha portato a casa tre punti che dire fondamentali è poco Perché sono una boccata d'aria fresca, una boccata d'ossigeno Io giovedì mattina quando ho commentato Pisa-Modena avevo detto che il Pisa era nella merda fino alla bazza Ora abbiamo avuto un colpo di Reni che ci ha un attimo rialzato Quindi mi guardo dietro, mi guardo a questi cinque punti che siamo riusciti a mettere tra noi e la zona play-out Ma soprattutto secondo me la cosa molto più importante è aver messo anche più squadre tra noi e la zona play-out Perché con questa vittoria e con i risultati delle altre siamo riusciti a superare diverse squadre Come Reggiana, Cosenza, Bari Siamo riusciti, ovviamente la vittoria della Sampdoria però che c'è dietro per il discorso degli scontri diretti E il discorso della sua penalizzazione Quindi abbiamo messo anche un po' di cuscinetto tra noi e la zona play-out È ovvio, davanti sono sempre lì ma non possiamo certo esaltarci per una vittoria arrivata contro un Cittadella Che praticamente era inerme ieri però non togliamo i meriti dei nerazzurri che ieri hanno giocato in giallo Perché hanno cercato secondo me di mettere un attimo da parte il terrore che avevamo anche noi Per vincere una partita importantissima, cosa che siamo riusciti a fare È ovvio che ancora ci sia questa faziosità da parte di gruppi di tifosi che vogliono guardare ai play-off Gruppi di tifosi che guardano a mio giudizio in maniera più prudente e più concreta sempre alla zona play-out Sicuramente il mantenimento della categoria deve essere l'unico obiettivo che ci porta avanti Sicuramente però c'è ancora qualcuno che da un certo punto di vista non aspetta altro che il Pisa perda Per buttare merda su chiunque e chi quando il Pisa vince diciamo gliela fa pagare Gliela fa sentire a chi fischia o a chi diciamo critica quando le cose non vanno bene È ovvio è un modo di vedere il calcio che ognuno ha dentro di sé C'è chi dice che va sempre bene, chi applaudirà anche dopo una sconfitta per 3-0 E chi magari è più sanguigno e quando le cose non vanno fischia e manda a fanculo l'allenatore Sono due modi di vedere, secondo me entrambi rispettabilissimi perché ognuno ha la propria indole Ognuno vede il calcio e lo vive a modo suo e l'importante è rispettarsi l'uno con l'altro E non pretendere di avere la verità in tasca e di avere la patente del tifoso VIP O del vero tifoso a discapito degli altri È una, secondo me, una delle più grosse cazzate che possiamo fare Piccolo angolo polemico su Bonfanti che purtroppo era entrato nel secondo tempo Ma dopo 12 minuti al primo scatto che ha fatto è andato vicino al gol Però poi è dovuto uscire Altro acquisto, altra scoperta del Guglielmo Marconi del calcio moderno Tutti sapevano la fragilità di Bonfanti a livello fisico E ovviamente il nostro direttore gli ha fatto un contratto fino al 2027 Ovvio, un altro secondo me acquisto, non dico sbagliato Ma sicuramente fatto troppo alla leggera Perché si rischia di averci un nuovo Torregrossa per altri due anni e mezzo Che doveva risolvere i problemi dell'attacco nero-azzurro Ma che purtroppo in questo mese e mezzo, due mesi che è arrivato a Pisa Ha giocato pochissimo, ha fatto due gol, per l'amor di Dio è stato decisivo in certe partite Però poi purtroppo se deve fare un quarto d'ora e poi deve star fuori due o tre giornate Capite bene che i problemi non si risolvono Hai rotti i coglioni, hai rotti i coglioni Tutte le volte anche quando si vince devi sempre fare l'attacco a Giovanni Corrado Basta, basta, è lui che comanda e ti devi solo sperare che la squadra vada bene Ok, ok, stai tranquillo Perché insomma, io una polemichina su Guglielmo Marconi del calcio moderno La devo fare in tutti i video, ormai ce l'ho da contratto Anche perché ho fatto un conto riguardato un attimo tutte le partite da qui all'inizio del campionato Il Pisa ha fatto più di un quarto dei suoi 34 gol con dei difensori Più Valotti, più Marin con gli attaccanti Purtroppo è sempre lo stesso problema Aspettiamo con grande attesa la conferenza stampa di Giuseppe Corrado Del presidente dell'Azzurro di mercoledì mattina Dove non si sa bene che cosa annuncerà, che cosa dirà Se è solamente un riassunto delle puntate precedenti Dove magari ci darà qualche informazione in più sui lavori allo stadio Ricordo che domani si riunirà anche la commissione prefettizia Per quanto riguarda i lavori al Curvino Del centro sportivo, della situazione di campionato sicuramente Vedremo se accetterà delle domande dei giornalisti Oppure sarà solamente un monologo, ma credo di no Perché se no non avrebbe convocato una conferenza stampa La mia speranza è quella di sentire da parte del presidente Una unione di intenti E dica che magari con i lavori al Curvino imminenti Con l'ampliamento della capienza della curva Sabato c'è una partita che potrebbe essere decisiva Per il nostro campionato all'Arena Garibaldi contro la Ternana Perché se vinciamo davvero diamo una bella botta Alla zona sottostante E che magari inviti i tifosi e gli Ultras A rientrare per questa partita così fondamentale Per il nostro futuro e il nostro finale di campionato Mi aspetto un messaggio di grande fiducia Perché davvero abbiamo bisogno di tutti In queste ultime nove partite Che ci porteranno da qui a maggio A cercare di mantenere la categoria E poi chissà vedremo un attimo dove saremo Alla fine del campionato Quindi aspettiamo con grandi aspettative Questa conferenza stampa di mercoledì E poi sabato partita Come dicevo prima importantissima Che potrebbe essere decisiva Per il finale di campionato Quindi cerchiamo tutti insieme Di portare il più in alto possibile Questa squadra e questi nostri amati colori E come sempre forza ragazzi Forza Pisa Alla fine del campionato